Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qui con i Velox E io sono qui per portarvi un nuovo episodio della serie Road to Secret Cam Ragazzi un episodio diciamo molto atteso Perché appunto il precedente episodio è andato alla grande E abbiamo chiesto appunto 10 mila like per il nuovo episodio Siccome ne ha fatti un botto Siamo qui appunto diciamo dopo poco tempo Dopo pochi giorni dall'ultimo E questo sarà un episodio molto importante come il precedente Perché oggi andremo a sbloccare un'altra emetica Dark Matter per un'altra arma Il precedente episodio è stato sul Garand Abbiamo sbloccato la Dark Matter sul Garand Oggi lo faremo sul Balizong Sbloccheremo la Dark Matter per il Balizong E vi dico mi mancano 4 kill fatte Uccidendo il nemico col coltello Raccogliendo la sua arma e uccidendolo con la sua stessa arma 4 kill che non sono tante Ma dipende molto da come gira la parità c'è se occulo E poi devo ricordarmi assolutamente il nome di quello che ha coltello Se no non lo capiamo se l'ho fatta o meno Ok allora questo è Lucky raga E lui Dobbiamo ammazzare Lucky E' difficile perché se il gioco ce lo fa spawnare a cross the map E quello non muore più Rimaniamo un'ora con la stessa arma e non la facciamo raga C'è 4 da fare e non sono tante Però possono essere tante se appunto ci va male Eh no questo è Alex Aspetta 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 No non è nemmeno questo Vediamo un po' eh Immaginate se ora quitta Lucky Io non lo vedo e rimango tutto il tempo con questa cazzo di arma Sta saltando uno? Non è lui Dov'è finito Lucky raga? Sta killando e dall'altra parte della mapa Bastardo Aspetta che lo andiamo a prendere Cosa? Cosa? Vabbè non è morto Vabbè ok C'è uno Oddio sono due nemici Ammazziamo lui Eh vabbè ma sono circondato raga Cazzo da non trovare nessuno a trovarmeli tutti addosso Siamo ancora quota 0 eh C'è che modo di andare qua? Spero veramente di avere culo e di non trovare i tipi che spariscono dalla mapa perché Ok allora Lucky di nuovo lui Sempre lui Lucky fatti vedere però adesso non sparire perché Non è Lucky Questo mi sa che è Lucky raga Riconosco il WMP Lo sento che sta sparando in lui Non me lo ammazzate pezzi E mi ammazzo Madonna DD shooter Ragazzi siamo ancora a quota 0 Dobbiamo fare 4 Cioè rendiamoci conto Olè Michael Perfetto Cerchiamo di trovare il suo cazzo di Michael raga Sono qua Ma te come lagga perché Black Ops 3 è un bel gioco Michael Michael È lagga Black Ops 3 è un bel gioco quindi Che fa praticamente? Mettono i punti doppi È tutto un trucchetto Allora mettono i punti doppi perché questo che cazzo fa? Perché sanno che tanto mettendoli lagga E quindi nessuno li usa Quindi potrebbero metterli anche tutti i giorni Tanto i livelli sarebbero sempre uguali Si livella allo stesso identico modo Anzi Diciamo che si livella anche di meno Ora non so chi devo accoltellare Perché mi sono concentrato a parlare Non ho visto chi è cazzo ucciso Puttana Chi cazzo? Vabbè se vedo uno con l'XR2 Questo che arma? BRM Ecco il pad anche che mi raccoglie le armi da solo Madonna raga oggi do una testata al muro Vi giuro mi spacco il cranio Chi è questo qua? Era DD Shooter mi sa raga Mi sa che era lui Vediamo un po' No c'ha l'HVK Ma porco Mi stanno... Vabbè basta rimetto il coltello Rimetto il coltello Secondo me era DD Shooter Poi non so Dobbiamo farne quattro Sperando... Cioè se ne abbiamo fatta già una Tre in realtà Che che mi stun Ma guarda quello che sta sulle macchine Vabbè Quanto può essere insignificante La tua permanenza dentro questo gioco Quanto puoi essere non divertito Che cazzo tira le granate random così io Non c'è nessuno Sento uno che cammina Eccolo Questo non sta nemmeno capendo quello che succede attorno a lui Eccolo Dark Nuzz Perfetto Questo lo riconosciamo a prescindere dalla gamertag Perché cammina come un... Come uno zombie Quindi cioè Aspetta mi sa che è lui No non è lui Che cazzo mi sta ricaricando da solo Anzi cioè Devo neanche pormela la domanda Ok mi sa che questo è lo zombie raga No No raga Il gioco ci odia Ce li fa spawnare lontanissimi Ogni volta che li accoltelliamo C'è uno che corre Minchia bella connessione Boh A quanto pare da solo riesco a occupare tutti gli spawn di mezza mappa Vi so che non sta più spawnando nessuno Eppure senza guardarli Incredibilmente proprio Un uomo che fa spawn trap da solo In TCT No raga basta Non lo troviamo Rimettiamo il coltello Mi sa che è lui però eh Mi sa che è lui raga E lui per... Si era lui era lui era lui Perfetto Ok almeno Sai Era una chi cazzo di kill Muori Lucky Mamma mia Lucky non lo troveremo mai Eccolo E invece era proprio lui Grande Lucky Grande Lucky Mi piaci Lucky Mi stai simpatico Dammi il coltello Olè Non so quante Non so quante ce ne mancano sinceramente Penso poche Però Io non vorrei che la parità finisse È lagga Abbiamo il Visat Cosa? No! Pezzo di merda Dark Nuzz Abbiamo il Visat raga Non so come l'abbiamo preso Però ce l'abbiamo Tiriamolo Che c'è un nemico qui Che non sembra molto intelligente Vediamo dove spona Vediamo dove spona Vediamo dove spona Ok l'ho visto È qua È qua È questo a sinistra raga È lui È lui È lui È questo qua Non mi dovete uccidere Pezzi di merda Eh vabbè Lo devo abbandonare Non era lui Non ce la faremo mai Me ne mancano quattro Cioè mi mancano in realtà Quattro kill per vincere Dovrei fare una coltellata E poi subito ammazzare il tipo Per due volte Penso che me ne manchino due Più o meno Forse Questo è caduto giù Grande Grandissimo Toniamo questo Ma porca troia Vabbè raga Al massimo la facciamo Nella prossima parità Nel senso Non è un problema Però mi innervosisco Molto facilmente Alle prese con questi individui Ma più che altro È il gioco che mi fa innervosire Perché Asperate qua che c'è uno Ah no due Ma porco Ok Antonello Raga Antonello dai Non ce lo possiamo scordare Ok ecco Antonello usa il WMP Cerchiamo sto cazzo di Antonello Questo non è Antonello Lasciami stare Non sei Antonello Non ti voglio Questo è Antonello raga No era Gesule Vabbè Vabbè Ok Ci mancano due kill Vabbè raga E ormai abbiamo capito Lo faremo alla prossima Direttamente Perché questa va male Ok raga Abbiamo perso questa partita Va bene Ci becchiamo tra poco Vediamo quante ce ne mancano E poi ci facciamo un'altra peta Raga A tra poco Ok raga Tra l'altro ho fatto anche varie sfide Vediamo un attimino Quanti me ne mancano Allora Me ne mancano due Ne abbiamo fatti due Siamo riusciti a fare due Perché una l'avevo già fatto Ce ne mancano ancora due Va bene Speriamo che ci vada meglio Quest'altra raga Ci becchiamo direttamente in partita Appena ricomincia Poi li faccio Faccio queste due E quitto al volo Perché non ci faccio assolutamente niente In questa varietà Quindi a tra poco Ok raga Ho cambiato lobby Fortunatamente questa sta iniziando ora Che l'altra Cioè non era fattibile Poi c'era Antid Cioè non Non puoi fare a caso C'è nessun antid Allora Ok smart è il nostro bersaglio Niente Siamo morti Dobbiamo cercare di essere calmi Perché questa cosa Mi fa molto innervosire Vi giuro Una delle cose più Ok Chris Ender È il nostro nemico Questo deve morire Oh Chris Sì Ok qua sopra ce n'è uno Muori The hash cam Perfetto Eh no Arrivai The ying yang 26181 Va bene Raga ce ne manca una Almeno Almeno Cerchiamo di farla Dai non è difficile Accoltelliamo uno E lo uccidiamo Alla portata di bimbo Muori tu Joker skill C'è uno Ok ying yang Dammi un'arma Cuda grande Cosa che ne ho uno dietro Muori È possibile che ce l'abbia a tutti Che non era Nessuno di loro Ying yang Dove ti nascondi Ying Non è ying Questo qua È un pezzo di merda Raga Sembra È una maledizione È una fottuta maledizione Coltello 1 E quel qualcuno Sparisce per sempre Sempre così A parte che il balizong C'ha veramente La portata di Di uno stuzzicadenti Raga C'è veramente Cioè non ti aggancia Le persone Tu a coltelli Non li colpisci Ok ying Ying questa volta Ti prego Torna da me Dai ying È ying No è mario È ying No è mario Oddio no Mamma mia Questo probabilmente Non riceverà più Un uovo di pasqua In vita sua Dopo questa Uno sopra Dai ying però Dove sei ying Ti prego Cioè devo ammazzare Solo questo cazzo Di tipo Che adesso è sparito È completamente sparito Vabbè io cambio Zona della mappa Raga Aspetta aspetta Mi sa che lui Mi sa che lui Ed è lui Cazzo ying di merda Vaffanculo Morite Ora vi spacco Cazzo Fatevi vedere Vi devo battere Per forza tutti Merde Morite Morite Mori Mori Basta La vinciamo raga Vabbè ci becchiamo direttamente Alla prossima partita In cui vi faccio vedere Il La dark matter Cioè questa la finisco E entro direttamente In un'altra Dove ve la faccio vedere Raga Tra poco Ok raga Ce l'abbiamo la dark matter Ce l'abbiamo Guardate Guardate Già che Adesso che in bianco e nero Si vede che è figa Raga Vede già da qui Finalmente Mi ha fatto bestemmiare Tutto un giorno Questa cazzo di cosa Però raga È figa Ma raga Rende tantissimo Sul balison Guardate che bella Quando gira Bellissima ragazzi Vi giuro Troppo Vabbè Io raga Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se volete Un altro episodio Del rotus Creatcam Il prima possibile Raggiungiamo i 10.000 Mi piace E niente Noi ci becchiamo stasera Alle 18 con un nuovo video Grazie per aver visto questo video Bella Ciao 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 Ciao